Zia, operatore 6, qual è l'emergenza? Io c'è una persona al telefono che passa per la mia nipote, invece io la conosco che non è mia nipote, vuole l'oro che vada a prelevare i soldi. Ce l'ha ancora al telefono? Sì, sì. Ok, se la tenga al telefono, ma resti via. Quanti soldi le ha chiesto? 15. 15.000 euro? Sì, sì. Ok, e più l'oro? Sì, sì. Ok, resti in linea, non riagganci. Sì, sì. Guarda che l'oro l'ho preso tutto, adesso te lo peso e poi te lo dico quanto pesa, anche il brillante devo mettere dentro. Ma tu quando puoi venire allora? Ma vieni a prenderlo tu però? No, no. Pronto? Signora, complimenti, ti fa bravissima. Allora, lei è stata veramente, veramente brava. Allora, questa volta li prendiamo, non ti preoccupi.